Grazie per l'invito. Vengo dal Ministero, ho appena incontrato una delegazione di sindaci abruzzesi e molisani per parlare di infrastrutture, perché dal mio punto di vista, come Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dei Lavori Pubblici, ogni cantiere che riesco a sbloccare, a progettare, a finanziare, significa posti di lavoro per operai, per architetti, per geometri, per ingegneri e quindi per me la priorità in questo momento è il lavoro. Sono contento di essere al congresso della CISAL perché, ricordo ad alcuni giornalisti, che non esistono solo CGL, CISL e Will, ma esistono. E lo dico con tutto il rispetto per tutti. No, perché se uno guarda alcuni telegiornali sembra che esista solo Landini, però per fortuna siamo in democrazia, in democrazia anche sindacale, quindi c'è Landini che rappresenta una fascia di lavoratrici e lavoratori, ma non è l'unico depositario della rappresentatività di lavoratrici e lavoratori. E quindi è bello e giusto confrontarsi con tutti. Cosa posso portare in dote? E' il di là dei proponimenti, poi ne farò accenno ovviamente, stipendi, pensioni, però porto in dote innanzitutto a proposito di lavoro. Ho letto le tesi programmatiche della vostra assemblea congressuale. Un ministro delle infrastrutture deve creare lavoro, ricchezza, opportunità. Il nuovo codice degli appalti pubblici, su cui abbiamo lavorato per mesi, che è stato approvato in via definitiva dal Parlamento e dal Consiglio dei Ministri, prevede tempi molto più veloci per gli appalti e cantieri che potranno aprire senza perdere anni e anni di tempo in burocrazia, il che vuol dire migliaia di buste paga per i lavoratori a fine mese. Tenete presente che in media ogni miliardo di euro in opere pubbliche significa fra i 15 e i 20 mila posti di lavoro. Ieri ho fatto un sopraluogo in provincia di Siena sui lavori della E78, la Grosseto Fano, e lì quei lavori che aprono danno uno stipendio a 150 operaie e operai. Quindi al di là delle chiacchiere della filosofia, io vado in ufficio la mattina cercando di sbloccare opere pubbliche per creare posti di lavoro, qualcuno fa polemica dicendo sempre no a tutto, sono un convinto sostenitore, può essere strano che sia un ministro della Lega nato a Milano, ma quando mi metto in testa una cosa, sono testone, la voglio portare fino in fondo, il collegamento stabile fra Sicilia e Calabria, il ponte sullo stretto di Messina, dovrà partire dopo decenni di chiacchiere, anche perché significa almeno 100 mila posti di lavoro vero, posti di lavoro vero, non assistenza. L'assistenza è un'altra cosa, l'assistenza è dovuta a chi non può lavorare, quindi nelle riforme del governo, se uno è disabile, se uno è troppo anziano, se uno è minorenne, se uno deve accudire a casa una persona non autosufficiente, va aiutata, però se uno è di sana e robusta Costituzione, ha 20, 30 o 40 anni e si rifiuta di andare a lavorare, non può rimanere a casa a carico della collettività, magari a spese di un precario o di un operaio che paga 600-700 euro qualcuno che sta a casa e poi magari a rotonda lavorando in nero. Non mi sembra fattibile. Quindi un nuovo codice degli appalti. Nei giorni scorsi abbiamo firmato, il Vice Ministro Rixi ha firmato un protocollo per la sicurezza sui luoghi di lavoro nei porti. La riforma delle pensioni, sono e rimango assolutamente convinto, c'è nel programma della Lega, c'è nel programma di governo, alla fine della legislatura la legge Fornero dovrà essere solo un ricordo e l'obiettivo è quota 41, con la flessibilità in uscita. Su questo non cambio e non cambierò mai idea, anche perché leggevo i vostri documenti, uno dei grandi, ahimè, drammatici temi, quelli degli incidenti sul lavoro, quello dei feriti, quello degli invalidi, quello dei morti sul lavoro, ovviamente c'è una correlazione col dato anagrafico. Un conto è andare in cantiere, salire su un ponteggio a 30 anni, un conto è farlo a 60, 62, 64, 65 anni. Quindi la flessibilità in uscita è assolutamente doverosa, anche perché il calco della pensione non può essere un calcolo meramente economico, visto che chi si affaccia al mondo del lavoro oggi, io penso al mio Ministero, guardo in casa mia senza fare filosofia, io un ingegnere di prima nomina che domani cominciasse a lavorare al Ministero delle Infrastrutture e dei lavori pubblici che si occupa del PNRR, 40 miliardi di cose da fare, sapete cosa prende un ingegnere di prima nomina? Non arriva a 1.600 euro al mese, il che vuol dire che o abiti a Roma, o hai la casa di proprietà, ma se stai a Reggio Calabria, a Milano, a Belluno, piuttosto che a Palermo, di questi 1.600 euro al mese, col costo della vita che c'è nelle grandi città, evidentemente più della metà ti va in affitto. Quindi il ragionare anche della possibilità di dare riconoscimenti economici maggiori, laddove il costo della vita è maggiore, non è un problema di nord e sud, perché è chiaro che a Roma il costo della vita è di un certo tipo, a Torino e a Napoli è di un certo tipo, in un paese è diverso e questo vale per i poliziotti, vale per gli insegnanti, vale per gli operai e vale per tutti quanti. Quindi dare la possibilità, mantenendo ovviamente ben saldo il contratto collettivo nazionale di lavoro, a chi volesse farlo, di poter aumentare l'offerta economica, altrimenti nelle grandi città è sempre più difficile stare, ma questo vale anche per i piccoli comuni in montagna o sugli appennini. Quindi questo sto cercando di considerarlo come Vice Presidente del Consiglio e Ministro dei Lavori Pubblici, con un occhio alle normative che ci arrivano dall'estero, perché ovviamente quando dall'Europa vi arrivano in sede sindacale, vi arrivano in fabbrica, vi arrivano in negozio, in azienda, e la casa green, e l'auto green, per carità di Dio, è bello green. Chi non lavora per lasciare ai figli un'aria più pulita, un'acqua più pulita, bisogna però che oltre alla sostenibilità ambientale si accompagni la sostenibilità economica e sociale. Non vorrei che per alcune imposizioni europee fra 50 anni l'Italia fosse un paese più pulito, ma assolutamente disoccupato e disabitato, perché a furia di imporre normative e restringimenti le aziende chiudono, faccio l'esempio delle auto green, se veramente dal 2035 tutti dovessero andare in giro solo con l'auto elettrica, significa licenziare decine di migliaia di operai in Italia e aiutare la Cina, che è il più grande paese inquinatore al mondo. E quindi non capisco perché occorre chiudere le fabbriche in Italia, a licenziare in Italia per fare un favore anche perché i numeri, chi fa sindacato, chi fa impresa, chi fa attività politica, ha passione. Qua immagino ci siano delegati per passione, per vocazione, perché non usciamo da anni di periodo storico in cui faccio politica o faccio il sindacalista, ti aprisse ovazioni. E quindi io ringrazio anche chi ha tenuto duro in anni difficili, perché senza rappresentanze sindacali vere e realmente esistenti sui territori, anche il nostro lavoro sarebbe più complicato. Quindi ringrazio voi per essere qua a scegliere liberamente i vostri organi congressuali e ringrazio chi ci darà una mano non a dire di no. Noi siamo in Europa, siamo contribuenti netti dell'Europa. Questa settimana arriva la missione internazionale per decidere se Roma dovrà ospitare Expo 2030. Io, nell'ottica del lavoro, sono il primo tifoso di Roma come sede di Expo 2030 perché abbiamo bisogno di piccole opere. Oggi parlavo con i sindaci molisani e abruzzesi della strada statale 650 che ha le buche, quindi occorre la manutenzione ordinaria, basta guardare le strade di Roma, non so dove alloggiate, però basta farsi due passi in giro per Roma per rendersi conto che serve sicuramente la manutenzione ordinaria, però bisogna pensare in grande. L'Italia ha sempre pensato in grande. Io ricordo che anche quando i nostri nonni hanno fatto l'autostrada del sole c'era qualcuno che diceva che non serviva. Ma cosa vuoi che serva l'autostrada del sole? E adesso uno dice come faremmo a stare senza l'autostrada del sole? Quando si cominciò con i lavori dell'alta velocità qualcuno diceva ma non serve andare in treno in tre ore da Roma a Milano. Oggi sono centinaia di migliaia le persone e non serviva il Mose, non serviva la TAV, non serve il ponte, non serve la TAP, non serve qui, non serve là, i comitati del no. Io conto di avere nella CISAL un alleato che ovviamente nel rispetto ciascuno delle proprie peculiarità ci aiuti a dare voce all'Italia dei sì. L'Italia ha bisogno di fare, ha bisogno di sbloccare, ha bisogno di lavorare. Lasciamo che la CGL rappresenti l'Italia dei no, io ho bisogno di chi dà voce all'Italia dei sì. E quindi anche perché la Cina quest'anno nel primo trimestre cresce del 4,5%. Quindi e i numeri, dicevo, per fare sindacato, per fare politica, per fare il ministro, per fare il segretario occorre avere passione ma occorre avere anche dei numeri. L'Italia produce lo 0,8% delle emissioni di CO2 a livello mondiale e noi e l'auto green e il monopattino elettrico e la casa green e tutto green forse se facciamo miracoli passiamo dalla 0,8% allo 0,7% chiudendo un po' di fabbriche e licenziando un po' di lavoratori. Ecco, il nostro 0,8% su cui qualcuno ci chiede lacrime e sangue in Cina la Cina non produce lo 0,8% produce più del 30% delle emissioni. Noi siamo alla follia per cui le auto solo elettriche vuol dire che noi per passare dallo 0,8% allo 0,7% nei prossimi anni chiediamo di spendere 30, 40, 50 mila euro per cambiare la macchina e intanto in Cina per fare le batterie elettriche che ci serviranno a Milano, a Roma, a Napoli e a Torino per andare in giro a fare i fighetti tutti green stanno aprendo le centrali a carbone. Quindi loro passeranno dal 30% di emissioni al 40% di emissioni daranno lavoro e apriranno fabbriche e noi per passare dallo 0,8% allo 0,7% perderemo decine di migliaia di posti di lavoro ditemi se è una roba intelligente da fare ditemi se è una roba intelligente da fare quindi non la faccio lunga perché sono segretario di partito e so che cosa significhi l'assemblea congressuale auguro in bocca al lupo a tutti i candidati a tutti i delegati soprattutto a quelli che sono venuti da più lontano in cinque mesi non si fanno miracoli però nuovo codice degli appalti approvato decreto ponte che finisce oggi l'iter di audizioni in commissione alla camera abbiamo fatto una riunione stamattina il tema sicurezza è fondamentale sicurezza sul lavoro quindi anche il futuro di INAIL e di IMS mi è particolarmente a cuore con un incentivo alle aziende dove si verificano meno incidenti sul lavoro perché è giusto penalizzare andare a verificare con gli ispettori del lavoro però secondo me è anche giusto premiare le realtà industriali e imprenditoriali laddove si verificano meno incidenti sul lavoro quindi sanzionare e incentivare ce la stiamo mettendo tutta noi abbiamo in tasca 40 miliardi di euro di PNRR e 20 miliardi di euro di fondi complementari conto di spenderli bene perché uno dice i giornalisti ogni tanto dicono bisogna spendere tutti i soldi del PNRR vero però ricordiamoci che in maggioranza sono soldi a debito sono soldi prestati quindi se li uso per fare una ferrovia laddove non c'è o per portare più sicurezza nei porti è un conto se li uso per fare lo stadio o il campo da paddle non è un investimento particolarmente intelligente visto che sono soldi che poi i nostri figli devono restituire quindi obiettivo di quota 41 garantendo la flessibilità in uscita il taglio del cuneo fiscale questa parola semplicemente busta paga un po' più alta abbiamo dovuto fare una scelta per gli stipendi più bassi chi ha fino a 25 mila euro di reddito quest'anno avrà un incremento in busta paga e vale anche per i pensionati con i redditi da pensione più bassi abbiamo dovuto fare una scelta se qualcuno buon per lui si vede che è bravo guadagna 100 200 300 mila euro per avere un aumento può aspettare qualche anno noi abbiamo scelto di partire da chi guadagna di meno da chi ha stipendi più bassi e pensioni più basse ovviamente in bocca al lupo torno al ministero perché non mancano i dossier dai tempi di revisione dei mezzi pesanti della motorizzazione che bisogna tagliare ai tempi di revisione delle auto private alle opere pubbliche dei provveditorati delle opere pubbliche è un ministero affascinante complicato ci sono decine di migliaia di ponti di gallerie di viadotti da mantenere quindi ci sono alcuni decenni di ritardi da recuperare però con un po' di buona volontà un po' di passione un po' di impegno e consigli giusti io penso che si possa andare lontano conto e lo dico formalmente e ufficialmente che una volta finiti i vostri lavori congressuali vi aspetto con una vostra delegazione al ministero delle infrastrutture e dei trasporti per costruire l'Italia che sarà grazie buon lavoro e buon congresso a tutti voi grazie grazie a tutti